Cari amici della televisione in diretta di quotidiano.net, bentornati per parlare delle elezioni americane. In diretta da New York, l'inviato di QN quotidiano nazionale, il resto del carlino, la nazione, il giorno, Giampaolo Pioli. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a voi. Quali sono le ultime notizie dal fronte democratico? So che sei in partenza per Chicago dove seguirai minuto per minuto l'epilogo della vincente corsa alla Casa Bianca nel quartiere generale di Barack Obama. Che aria si respira? Sono prudentemente ottimisti gli uomini di Obama e Barack ha già detto che domani mattina mentre la gente andrà a votare lui per scaranzia farà la sua partita di basket come ha fatto in tutti i giorni in cui si sono tenute le elezioni delle primarie. Evidentemente gli è andata bene, ha fatto sempre dei canestri da altri punti. La questione si potrebbe risolvere domani sera alle 7 ore di New York con Virginia e Indiana, i primi due stati che chiudono i seggi, perché se in questi due stati, che sono stati repubblicani per tradizione, Obama dovesse dominare, utilizzerebbe questa un'ondata obambiana per tutta la sera e quindi probabilmente prima di mezzanotte si saprebbe che è il nuovo presidente degli Stati Uniti e non c'è dubbio che tutti gli indicatori circolano lui. Se invece Virginia e Indiana dovessero diventare stati contesi o addirittura McKinney uscisse con questa enorme campagna elettorale che sta facendo in queste ore a mantenerli, allora la situazione si complica. Forse c'è necessità di tutti i 30.000 avvocati che sono stati schierati in Florida e in Ohio per contare fino all'ultima scheda. Gian Paolo, tu sei un profondo conoscitore degli Stati Uniti, si avverte nell'area della sensazione di essere alla vigilia di una svolta storica, quale ovviamente si registrerebbe se venisse eletto Barack Obama? Io ho, sì, sì, nel senso che basta non chiederlo ai democratici che sono molto emozionati ed entusiasti l'idea di che questo possa avvenire, ma a tutti quei moderati o qualche repubblicano che ha deciso di dare una chance a Obama per questo cambiamento. C'è questa tendenza, questo movimento nel paese, anche se Barack dovesse perdere, credo che comunque la svolta storica è già avvenuta, avere un afroamericano candidato alla presidenza degli Stati Uniti che addirittura vince la presidenza oppure perde per poco è sicuramente un fattore singolare. L'America con questo voto tenta di mettersi alle spalle un passato che per molti versi rimane ancora sotto cutaneo quest'ombra del razzismo che ha dominato per molti anni questo paese. C'è un effetto strano che si chiama l'effetto Bradley rovesciato. Qualche anno fa, 20 anni fa, come voi sapete, in California i sondaggi davano tutti vincitori, un candidato a governatore, un uomo di colore, l'ex sindaco di Los Angeles, alla fine questo ha perso e il vincitore è stato un altro uomo bianco che lo sfidava. In questo caso molta gente, proprio per questo reverso effetto, molti bianchi magari non dicono di votare Obama nella scheda, nell'urna, ma potrebbero trovarsi a votarlo proprio per dare questa chance, magari non dirlo in casa perché sono figli di conservatori o altro. Tenete conto che la grande massa di nuovi iscritti al voto sono quasi, insomma l'80%, 82% al di sotto dei 35 anni e questi sono neri, bianchi e ispanici. Quindi è una nuova generazione, una nuova generazione che si interessa alla politica, che comincia a partecipare alla vita di questo paese e che probabilmente Obama spera vada a votare in massa domani se non l'ha già fatto col voto anticipato. Gian Paolo, telegrafico, ultima domanda. Che cosa fa Bush in queste ore e che cosa pensi che faccia nel giorno del voto? Tutti pensano che Bush sia scomparso in queste ore. Cheney è uscito l'altro giorno dando l'endorsement a McCain e credo che McCain non l'abbia ringraziato perché subito i democrati hanno attaccato, dicendo avete visto, gli dicevamo che è la stessa cosa, adesso è la prova. Bush è totalmente scomparso, lui sa che se si avvicinano dei candidati con la sua bassissima popolarità potrebbe danneggiarlo e quindi si tiene in disparte. Cheney ha dato ufficialmente l'appoggio a Obama, cosa che Bush aveva già fatto con McCain qualche mese fa in maniera molto fredda e pare che non sia stato un gesto molto gradito dai repubblicani, c'è addirittura qualcuno che pensa che sia stata una sorta di piccola e cinica vendetta di Cheney nei confronti di McCain in Maverick, però ormai queste qui sono già considerazioni destinate a passare alla storia perché tra poche ore si vota e quindi la verità sarà solo ed esclusivamente nell'urna. Grazie a Gianpaolo Pioli, uno dei nostri inviati negli Stati Uniti per seguire in diretta minuto per minuto su quotidiano.net, la grande corsa alla Casa Bianca. Grazie a voi, a domani. Grazie a voi, a domani.